Ma ho avuto modo di incontrare stamani la famiglia con il piccolo e apparentemente sta bene. E' questa la notizia principale più importante che arriva da San Giovanni Valdarno, ovvero il bambino, dimenticato per sei ore sul pulmino che lo portava alla scuola materna, sta bene. Questa mattina insieme ai genitori si è presentato alla scuola Marconi, coccolato anche dalle insegnanti, compagni e il dirigente scolastico. So che ci sono stati degli accertamenti clinici. Il più importante stamani è poter vedere di persona che con i propri genitori erano in una situazione tranquilla. Il bambino, lo ricordiamo, è stato ritrovato dai carabinieri di San Giovanni, legato con la cintura al seggiolino dell'autobus. Impaurito e piangente, il bambino non è sceso. Non è sceso. Il bambino è rimasto nel pulmino. Non ci sono accorti né l'accompagnatrice né l'autista. Il comune di San Giovanni Valdarno non gestisce direttamente quel tipo di servizio appaltato. All'autoline toscane... ...che sta provvedendo a fare le operazioni che si devono fare in questi casi. E autoline toscane in una nota fa sapere che l'autista è stato sospeso come l'accompagnatrice che viaggiava con lui. E sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. E qua alla scuola, ci dice il dirigente, gli insegnanti non si sono allarmati della non presenza del bambino in quanto i giorni precedenti era assente per malattia, quindi hanno pensato ad un allungamento della convalescenza. Fra l'altro nel mese di febbraio, soprattutto la scuola dell'infanzia, la percentuale di assente è molto alta visto che nei momenti dei picchi influenzali molti bambini rimangono a casa. E la scuola pensa a qualche provvedimento in più per prevenire questi fatti. Se non adottassimo degli ulteriori provvedimenti a salvaguardia della tutela dei bambini sarebbe da parte nostra quantomeno da incoscienti. Dall'altra parte la scuola è solita tenersi in contatto con le famiglie. I cittadini di San Giovanni chiedono che siano accertate le responsabilità. Perché comunque è un fatto gravissimo, perché un memoria di tre anni da solo per sei ore non si può immaginare cosa il povero è passato, soprattutto anche i genitori. Per i bambini bisogna starci attenti ragazzi, di più di attenti. È una cosa che è abbastanza inaccettabile, perché un bambino si vede se è in un autobus. Perché insomma le soccorse non dovrebbero succedere. In questo caso non ci hanno avuto tanta attenzione. Meno male è andata bene. Ci sono dei casi che comunque sono andati in peggior dei modi, quindi siamo contenti per quelli.